Musica Ciao a tutti, oggi prepareremo la ricetta dei funghi champignon ripieni. Il tempo di preparazione è di circa 35 minuti. Gli ingredienti sono pane, funghi champignon, i gambi dei funghi champignon, sale, prezzemolo, pecorino, parmigiano, pepe, noce moscava e acqua. Andiamo il via alla ricetta. Inseriamo all'interno del boccale il pane. Andiamo a tritarlo per 40 secondi, da velocità 6 a velocità 10. Andiamo all'interno del boccale il pecorino e il parmigiano. Chiudiamo, 10 secondi, a velocità 10. Andiamo adesso i gambi dei funghi, il prezzemolo, un po' di sale, un po' di pepe, e un po' di noce moscata. Andiamo adesso a tritare il tutto per 20 secondi. A velocità 7. Bene, il nostro trito è pronto. Adesso andiamo a metterlo all'interno delle cappelle. Adesso rimettiamo il boccale. Andiamo a mettere un po' d'acqua. Chiudiamo con il coperchio. E andiamo a posizionare il varoma con i funghi. Mettiamo un filo d'olio. Chiudiamo con il coperchio. E andiamo a cucinare per 35 minuti. Varoma. Velocità 2. Bene, i funghi sono pronti. Andiamo a impiattare. Funghi champignon ripieni. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie mille.